Allora tu ora prendrai il biglietto Ora sta reggisando Ah no, non c'è, scrivete che c'è in pausa A caso di seconda Ecco qua, perfetto, bravissimo Allora, serie D Numero 0, 49 serie D Sbana Sbana Dove è Sbana? C'è Sbana? Se non c'è ce la prendiamo noi uguale Pippo Sbana numero 49 Serie D Pippo Sbana Vabbè ci sentirai se la guarda a regolare Allora si ha accattato il biglietto Allora si ha accattato il biglietto Il primo biglietto adesso lo diamo le mischiate Tanto diamo le mischiate a questi numeri E prendiamo adesso E' rimasta questa bicicletta a sorteggio Sempre uno guardare là Tocchi così Ridicoloso, ridicoloso, ridicoloso guardare là Buonissimo Allora serie A Serie A 0, 79 0, 79 Serie A Nicolò Nicolò Chi è Nicolò? Serie A 79 Nicolò Allora Secondo estratto Serie A 0, 79 Nicolò Può venire a ritirare la bisecretta Conserviamo anche questo altro nucleo Quindi Sbona Serie D 0, 49 La bici gialla Nicolò Serie A 0, 79 Questa bici verde Quindi Conserviamo Anche questo bucchetto E con Ecco Sbona Sta arrivando Sbona Viene a ritirare la bici Sbona Sei stato uno Dei digitare Quindi Ora Lo facciamo salire qua Sbona A questo punto Sbona 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 Viene a ritirare Sbona Il postbona Vincitore Di questa bicicletta eccolo qua la ricevuta che ci ha portato Pippo Svona quanto ne vuoi se è stato fortunato a vincere complimenti cosa ci diceva con questa bicicletta che facciamo? questa qua la riveliamo alla bambina quindi sarà felicissima quindi auguri a Pippo e auguri alla Lipotina arrivederci il prossimo anno quando in bici città va bene a questo punto a questo punto rimane questo bici di Nicolò noi non ci rimane altro che fargli ancora un ringraziamento a tutti